Sono Filippo Maria Invitti, presidente dell'Osservatorio Internazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Desidero presentare il corso di perfezionamento Ready to Export, promosso in collaborazione da Università Internazionale Unint di Roma, Agenzia ICE, Gruppo Sace Simest e Osservatorio Internazionale dei Commercialisti di Roma. Il corso è rivolto a professionisti, commercialisti, avvocati, ma anche giovani che intendono approfondire le materie legate ai processi di internazionalizzazione, avendo la possibilità di individuare percorsi formativi e qualificanti per la professione del futuro. L'iniziativa consentirà il rilascio dei crediti formativi validi per la formazione professionale continua e avrà la possibilità di ottenere scontistiche per i dottori commercialisti iscritti ad Albo. Si svolgerà in modalità online-offline, due modalità stessi contenuti in modo da consentire la proiezione anche a distanza di questa iniziativa veramente interessante.